Ma è un'opera che completa i collegamenti importanti di Malpensa, purtroppo ha troppo tempo che deve essere realizzata, finalmente parte e Malpensa ha un collegamento anche ferroviario che è assolutamente congruo con il tipo di aeroporto che deve essere e che dovrà essere sempre di più. Solo ci sarà un miglior servizio per i passeggeri e sarà più facile arrivare a Malpensa, ma più persone useranno il ferro anziché la gomma e credo che questo sia un obiettivo importantissimo proprio di una logica sostenibilità. L'attenzione di Ferrovia Nord è stata così precisa che quando annunciamo l'opera qui ci sono dei importanti centri di equitazione, li abbiamo ospitati in Cadorna, li abbiamo fatto vedere il progetto e intanto hanno colto quello che veniva raccontato, era molto di più della realtà e insieme a loro abbiamo disegnato il percorso in modo da rendere compatibile l'infrastruttura ferroviaria che interessa tutta la Lombardia con le loro attività.